L'ennesima pulizia straordinaria. È in programma questa sera e domani una bonifica nell'area mercatale di via circunvolazione a Torre del Greco, letteralmente invasa dai rifiuti. Una problematica atavica è mai risolta, una richiesta che ancora una volta arriva dalle scuole che si trovano in zona e dopo numerose lamentelle e sollecitazioni anche dei cittadini. Ne abbiamo parlato ai microfoni di TV City con il consigliere con delega ai rifiuti Luigi Mele. Da anni quella è una zona abbandonata quindi è chiaro che la gente purtroppo i delinquenti vanno lì a sversare. Stiamo organizzando una bonifica totale dell'area che partirà da questa sera e che penso impegnerà anche la giornata di domani. Chiaramente è l'entissima pulizia straordinaria che facciamo in quella zona. È ovvio che stiamo cercando di mettere in atto tutte quelle che sono le azioni a noi possibili per poter controllare quanto più possibile in quell'area. Magari faremo estrarre delle prodotrappole in modo tale che chi in modo abusivo, perché anche stamattina andando a fare un solo luogo, abbiamo incontrato una persona che stava lì depositando un sacchetto di carta ben differenziato, però andava a depositare lì. Chiaramente perché ieri sera ha dimenticato di portarlo fuori o l'altra sera. Quindi abbiamo detto chiaramente di tornare indietro con quel sacchetto e di aspettare il giorno di conferimento nel quale si può buttare carta. È assurdo che i cittadini possano pensare che quello sia un punto di accumulo dove poterli andare a sversare in qualsiasi ora del giorno e della notte. Non è possibile se puliamo una zona e dopo, non dico due giorni, ma dopo due ore ritroviamo già i rifiuti, significa che c'è la volontà di qualcuno a voler tenere la nostra città sporca. Lo diceva lei prima, in quell'area ci sono due scuole, ma lì non sono previste delle telecamere di videosorveglianza. Purtroppo la città è grande, mettere delle telecamere fisse significa un lavoro enorme, anche perché poi ci siamo resi conto con le fototrappole stesse, che mettendola da una parte il problema lo spostiamo alla prima curva o alla prima strada adiacente. Quindi ci vorrebbero telecamere ogni 20 metri e ciò diventa veramente impossibile e improponibile. Disagi anche per la chiusura del punto mobile per il deposito degli ingombranti di Viale Sardegna. L'amministrazione comunale, corsa ai ripari, con la riapertura del sito della Santissima Trinità, chiuso ormai da diverse settimane. È stato fatto un ricorso al TAR da parte di uno dei confinanti, giustamente ognuno cerca di tutelarsi la propria abitazione, quindi in via cautelativa abbiamo ritenuto opportuno chiuderlo per evitare poi ulteriori sorprese e quindi stiamo riattivando quello di Santissima Trinità, stiamo cercando di ampliarlo anche. Abbiamo parlato stamattina con il dirigente, eventualmente mettiamo anche delle piante per limitare la visuale dalla strada e cercando di fare un ingresso e un'uscita dall'area del parcheggio in maniera tale che magari non si crea quel punto di incastro di ingombro da parte delle auto che sono lì ferme per poter depositare. Il punto di comprande non è né per le attività commerciali e né per le imprese edili che devono andare lì a sversare i loro rifiuti. Chi fa impresa ha l'opportunità di avere un punto di scarico chiaramente privato a pagamento e quindi di conseguenza deve andare lì a rivestare i rifiuti. Dunque in questo momento per depositare gli ingombranti i cittadini come possono fare? Il problema è proprio di oggi perché ripeto in via cautelativa è stata chiusa via le Sardegna quindi c'è una persona lì che sta dando indicazioni di poter conferire rifiuti a Santissima Trinità quindi Santissima Trinità in questo momento è aperto sia per i Rai che per gli ingombranti. Chiaramente stiamo cercando di ampliare l'area in modo che possa essere più agivola e più fluibile alle macchine che vanno lì a depositare i rifiuti.